Insomma, la seconda finale che raggiungi... Sì, ormai è specializzata in tabelloni inferiori però... La prima l'hai vinta, la seconda... Non è un'incognita, non si sa, non mi conosco... Sono bravini, sono bravini... Ci aggiocheremo... Quindi insomma, già in zona, due compagni diversi, tornei con compagni diversi... Poi in quale altro circolo andrai a fare un'altra finale? Due le prestazioni mi chiameranno, non cedevo... Portico, pre-partita? So la preparazione di mio marito, so che si è preparato molto bene... Ha fatto un buon allenamento... E' stato in ritiro per tanto, 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 tanto tempo... In che senso? Così... Aspetta... Che ne so di pronostire? Io qui, io mi devo solamente divertire... E questo lo dicono tutti... No, quello lì è sempre il meglio... Poi... Io mi arrabbio addirittura quando vinco e gioco male... Quindi... Mi finisco a volte... Però penso che Eugenio oggi mi darà grandi satisfazioni... Bene... Nel puro... Ponto tutto su di lui... Puro spirito tennistico... Puro spirito tennistico... Pronto... Bene... Pronostico per questa finale? Sarà un pareggio... Un... Impossibile... Un X... Un X... Un X... Insomma dopo un cammino abbastanza duro? Sì... Abbastanza duro... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.